Qui abbiamo il Papa, l'altro nome è il Pontefice, il Pontefice crea ponti, il ponte è qualcosa che unisce degli opposti, il cielo e la terra, la destra e la sinistra, il soprassotto, il bianco e il nero, e quindi è un mediatore. Ah un mediatore, un mediatore può essere in un lavoro, in una situazione, arriverà una persona che porterà notizia, che porterà aiuto e consiglio, aiuto, consiglio e farà da mediatore. Ah perfetto, ok. La positiva è quello che ti protegge, che ti dà saggi consigli, che ti trasmette la sua morale, le sue idee, i suoi ideali, che sa comunicare con te, il Papa è anche un comunicatore, trasmette le preghiere dei fedeli a Dio, le risposte di Dio ai fedeli. Perché è una persona che ti sa ascoltare, una persona che ti sa capire, non è la persona, mentre l'imperatrice e l'imperatore sono egocentrati, ok, la papessa e il Papa sanno ascoltare, no? Sanno mettersi nel panno degli altri o anche solo spegnersi e ascoltare l'altro. Anche perché se c'è una buona comunicazione solitamente tutto riesce, la comunicazione è il segreto del mondo.